Ben trovati ragazzi, stavolta affrontiamo la traduzione e l'analisi del testo dei primi 18 versi della prima ecloga di Virgilio, cioè la famosa ecloga di Titiro e Melipeo. Come vedete ci sono già delle scritte, delle scritte anche fatte in maniera un po' disordinata perché fatte su una limb in classe che fa anche le bizze. Comunque, cerchiamo di introdurre questa ecloga. I personaggi sono due pastori, Melipeo e Titiro, che vivono una condizione diversa. Tra l'altro, come quasi tutte le ecloghe dispari, abbiamo un dialogo tra pastori. In questo caso i due personaggi sono Melipeo e Titiro. Allora, è il mondo sereno, pacifico dell'Arcadia bucolica che però viene sconvolto dalle guerre civili. Perché? Abbiamo detto Titiro e Melipeo rappresentano due condizioni diverse. Perché dietro Titiro praticamente ci potrebbe essere Virgilio perché Titiro viene sorpreso da Melipeo mentre tranquillamente, sraiato all'ombra di un albero, sta modulando un canto per la sua amata. Mentre Melipeo appunto si stupisce di questa tranquillità di Titiro perché il povero Melipeo, come anche altri pastori, anzi tutti i pastori del luogo, sono costretti a lasciare i loro campi, quindi ad andare via in esilio in un viaggio verso l'ignoto perché questi campi sono stati dati a un empio soldato, ad un empius milles appunto. Cosa c'è dietro questa storia? Ci sono le guerre civili perché in effetti, come avevo detto prima, dietro Titiro ci potrebbe essere Virgilio in quanto sappiamo che Virgilio riuscì a mantenere, almeno in un primo momento, a mantenere i suoi terreni grazie alla, tra virgolette, raccomandazione di Asinio Puglione presso Ottaviano Augusto. Per cui ecco che grazie appunto a questo intervento di Asinio Puglione, i terreni che la famiglia di Virgilio possedeva nel Mantovano non gli vennero espropriati, ma tutti gli altri terreni della pianura padana del Mantovano e del Cremonese furono espropriati ai contadini per darli ai soldati veterani della battaglia di Filippi. E quindi diciamo che è una condizione di esproprio che subiscono i contadini della pianura padana e questa condizione di esproprio e l'angoscia dell'andare via dal proprio terreno, dalla propria casa, e ben rappresentata da Melibeo. Per cui ecco che nella serena campagna bucolica arriva l'orrore della guerra, delle guerre civili a sconvolgere la pace di questi pastori. Per cui, ripeto, il povero Melibeo, come tanti altri pastori, è costretto a portarsi il gregge e ad andare in esilio. Allora, inizia a parlare proprio Melibeo, il quale si rivolge a Titilo, appunto, vedendolo, come abbiamo detto, vedendolo appunto comporre poesia con il flauto. Allora, leggiamo la parte, i primi cinque versi di Melibeo e naturalmente è d'obbligo la lettura metrica dell'esametro. Allora, questi cinque versi hanno una struttura circolare, ora lo vediamo. Intanto vediamo la traduzione. Allora, Melibeo si rivolge a Titilo. O Titilo, tu, sdraiato all'ombra di un ampio faggio, meditaris moduli un canto pastorale con il sottile flauto. Noi lasciamo, abbandoniamo i terreni e i dolci campi della patria. Noi fuggiamo la patria. Tu, o Titilo, rilassato all'ombra, insegni ai boschi a far risuonare il nome della bella Amarillide, che poi era la donna amata da Titilo. Allora, cosa ci costruisce il grande Virgilio in questi cinque versi? Nei primi due versi c'è la condizione di pace che Titilo riesce a mantenere grazie all'intervento del Deus, cioè di Ottaviano. Primi due versi, quindi, va bene, la pace di Titilo. Ma alla pace di Titilo, Titire tu, vedete, si contrappone in nos, in posizione, in fatica, cioè all'inizio dei due versi, e anche in anafora. C'è la condizione di sventura di Melibeo che invece è costretto ad abbandonare i dolci campi e la patria. Va bene, ed è un verso e mezzo, praticamente il terzo verso è metà del quarto, con una forte cesura, il punto è virgola, no? A metà del quarto verso. E poi si ritorna, tu, Titire, vedete, Titire tu, tu, Titire. In chiasmo, no? Si ritorna alla condizione di Titilo che è esraiato all'ombra, va bene, a comporre poesia. Del resto, recubans e lentus sono due sinonimi, no? Perché recubans è un participio presente, significa sdraiato, e lentus significa rilassato, no? In una condizione di relax. Quindi, struttura circolare perché i primi due versi, la pace di Titilo, a metà, un verso e mezzo, abbiamo la goscia di Melibeo, e poi di nuovo, metà del quarto verso e tutto il quinto verso, quindi un altro verso e mezzo, di nuovo si ritorna alla pace di Titilo. Quindi, diciamo, questi versi iniziano come finiscono. Allora, cosa possiamo notare? Oltre al chiasmo che abbiamo visto, notiamo anche un'altra cosa. Titire, tu, patule, tegmine è un'alliterazione. Del resto, il nome Titiro è un nome molto allitterante, no? Abbiamo già visto il chiasmo Titire, tu, tu, Titire. Anche qui c'è un'alliterazione Titire lentus, quindi ti, ti, tu. E poi è anche a chiasmo, e naturalmente in antitesi, il tu, nos, nos, tu. Vedete, è una struttura a chiasmo A, B, B, A, non solo, ma questo sottolinea ancora una volta la condizione antitetica di Titiro rispetto a Melibeo e di Melibeo rispetto a Titiro. Va bene, allora, poi abbiamo anche degli perbadi tipici dello stile di Virgilio, per esempio patule faggi, ampio faggio, e poi abbiamo due perbadi incrociati, perché Silvestrem va con Musam e Tenui va con Avena. Quindi, due perbadi, l'uno dentro l'altro. Attenzione, Musam è una metonimia, perché Musa sta per canto, sta per poesia. Come anche Avena è una metonimia, la materia per l'oggetto, perché in realtà più che lo zufolo, più che il flauto, abbiamo l'avena, c'è la canna, di cui è formato il flauto. E poi abbiamo detto Nos, Nos in anafora, notate anche i due verbi, prima Melibeo dice Linguimus, abbandoniamo, e poi dice Fugimus, sono due verbi in Omoteleuto, no? Perché hanno lo stesso finale in Mus. Dulcia, Arba, i dolci campi, in Iperbato, e poi da sottolineare il dulcia, i dolci campi, come è dolce il vivere in campagna. E poi Patrie e Patrium, un poliptoto in anafora, perché appunto Melibeo sa sottolineare il fatto che appunto questi campi sono la sua patria. Quindi la condizione di Melibeo è una condizione di esiliato. E poi, ecco, abbiamo visto qui un'altra litterazione, e poi abbiamo anche, vabbè, il verbo reggente doces, insegni ai boschi a far risuonare il nome della bella Amarillide. Formosam Amarillida è un altro Iperbato, va bene, Amarillide è, vabbè, un nome greco, batte un accusativo alla greca, ed è la donna amata da Titilo. Quindi Titilo può continuare, nella sua condizione privilegiata, di comporre poesia sdraiato all'ombra di un albero, di comporre poesie d'amore per la sua donna. Ora Titilo si spiega, e spiega a Melibeo come mai, ecco, lui può continuare, visto lo scompiglio che c'è in tutti i campi, come mai lui può continuare a fare questa bella vita. O Melibeo Deus nobisec ozia fecit, e nanquerit ille mii semper deusilius aram, sepe tenernos ris abovilibus imbuet agnus, ille meas errare boves utocernis tipsum, ludere que velem calamò permisit agresti. Allora, cosa risponde? Il Titilo si spiega, e cosa dice a Melibeo? O Melibeo, un dio ci ha concesso questi ozzi, e imbatti quello sarà sempre per me un dio. Spesso un tenero agnello, proveniente dai nostri ovili, bagnerà l'altare di quello, oppure il suo altare, in segno di sacrificio. Quello, il verbo reggente permisit, ha permesso che le mie giovenche pascolassero, come vedi, e che io stesso componessi ciò che volessi con il flauto pastorale o con il flauto agresti. Allora, un dio ci ha concesso questi ozzi, attenzione, parola chiave, deus, riferito ad Augusto, naturalmente ha anche un valore encomiastico, no? Augusto, visto come un dio che ha concesso a Titilo il privilegio di rimanere a vivere nella pace, nella serenità. E infatti, qual è questa condizione di pace? È l'ozium, ozia, va bene? È l'ozium che si contrappone al negozium, come la campagna si contrappone alla città, in Virgilio, e quindi la campagna è il luogo della pace e della serenità, mentre la città è il luogo della violenza, dello stress, della guerra, soprattutto delle guerre civili, così il negozium, che è l'attività politica, si contrappone all'ozium. L'ozium che è l'attività letteraria, l'attività di studio e di composizione poetica. Del resto, nelle bucoliche, abbiamo ancora un Virgilio epicureo, un Virgilio che sicuramente, secondo appunto gli studi epicurei che aveva svolto a Napoli, preferiva l'ozium al negozium. Quindi l'ozium, inteso come poesia, come composizione poetica, diventa appunto in questo brano il valore supremo, la felicità più grande, va bene? Notate che Deus è ripetuto di nuovo in anafora al verso 7. Come anche il, che si ripete in anafora all'inizio del verso 9, quindi in posizione enfatica, e poi in poliptoto con Ilius, attenzione, Ilius con la I breve per motivi metrici, si riferisce sempre al Deus, cioè ad Augusto. Bene, e poi abbiamo Tenere Agnus, un tenero agnello in iperbato, anzi un forte iperbato. In mezzo abbiamo Nostris Abovilibus, provvediente dai nostri ovili, dalle nostre stalle, complemento di origine o provenienza, però in anastrofe, no? Perché dovrebbe essere Ab Nostris Abovilibus, quindi abbiamo un'anastrofe. Quindi abbiamo in questi versi la celebrazione del Deus, ma perché il Deus ha permesso appunto, per Misit, che Melibeo continuasse a comporre i suoi versi e a far pascolare le sue giovenchie. Notiamo anche un'altra parola chiave, ludere, ludere, che è, allora noi abbiamo tradotto come comporre poesia, ma in realtà significa giocare, ma perché appunto nelle bucoliche la formazione di Virgilio è ancora neuterica e sapete che i poeti novi consideravano la poesia un lusus, un gioco, un gioco virtuosistico. E quindi ecco perché per dire, comporre, Titiro usa il verbo ludere. Bene, Calamo, Agresti è un altro iperbato. Per il resto possiamo andare avanti. Allora, la risposta di Melibeo è una risposta abbastanza sincera, perché Melibeo dice, dice, ma io non ti invidio, piuttosto mi meraviglio. E mi meraviglio perché dappertutto c'è scompiglio. Quindi non è, diciamo, particolare la condizione di Melibeo, no, è particolare la condizione di Titiro, perché la maggioranza dei pastori, la maggioranza dei contadini si trova nella condizione di Melibeo, cioè si trova a lasciare i propri campi e ad andare in esilio. Ecco, lo scompiglio provocato dalle guerre civili. E infatti Melibeo descrive anche, diciamo, l'angoscia nel portare via i gregge e nel fatto che sicuramente questo gregge si perderà, come moriranno appunto i capretti di una capra che ha appena partorito. Comunque, leggiamo. Non equidim video miror magisundico etotis, usquadeo turbatura gris enipse capellas, protinus eger aganc e ziam vix titire duco. Ic interdensas corilos modonanque gemellos, spem gregisa silicin nuda conix reliquit. Sepe maloc nobis simens non leva fuisset. De celo tactas memeni predicere quercus. Sed tamenisse deus quicit datitire nobis. Allora, certamente non d'invidio, piuttosto mi meraviglio. Da per tutto a tal punto, in tutti i campi, c'è scompiglio. Ecco, io stesso, afflitto, spingo avanti le capette. Anche questa, a stento, otitiro, conduco. E infatti, poco fa, qui, tra i folti noccioli, ha abbandonato, dopo averli partoriti, ahimè, sulla nuda pietra, due capretti, due gemelli, speranza del gregge. Mi ricordo che le querce colpite dal fulmine ci predissero spesso questa sventura se la mente non fosse stata solta. Ma, tuttavia, dici, otitiro, chi sia, che tipo sia questo dio. Allora, quindi, ripeto, mi ripeto, piuttosto si meraviglia. Notate, mirror, magis, la litterazione. E poi, ecco, sottolinea, undique, usque, adeo. Da per tutto a tal punto, in tutti i campi, c'è scompiglio. Ecco, diciamo che sono tre espressioni pleonastiche, sia undique, sia usque, adeo, sia totis, agris, perché non fanno altro che sottolineare il fatto che questo scompiglio, questa, diciamo, questo esproprio, riguarda tutti. Ecco, e che, quindi, titiro è un privilegiato, la condizione di titiro è una condizione eccezionale. E, infatti, undique, usque, adeo, come se fossero delle ripetizioni. Anche totis, agris, con questo forte iperbato, totis alla fine del verso in posizione enfatica e agris alla fine della frase. Totis, per dire, in tutti i campi c'è scompiglio. E poi notate il turbatur, nella forma impersonale, che è importante perché, appunto, Melibeo non dice io provo scompiglio, io sono sconvolto, ma dice c'è scompiglio dappertutto. Quindi la condizione impersonale, non avendo un soggetto, indica una condizione di tutti. Va bene? Perché diverso sarebbe stato se Melibeo avesse parlato di se stesso, mentre sta parlando in generale. Ma in generale, perché, ripeto, la confisca riguarda tutti i contadini e tutti i pastori. E, infatti, ecco, fa pena questo Melibeo afflitto che spinge avanti le caprette per portarle via dalle loro stalle e dai loro campi. Infatti, notate anche l'alliterazione di Eger, Ago, Anc. E capellas, il diminutivo, le caprette, ad indicare proprio un legame affettivo con cui il pastore le nomina, le indica. E poi c'è questa capretta, anche questa, vedete, assento o titilo io conduco. Questa povera capretta che era gravida e che quindi Melibeo se l'è dovuta portare dietro, già gravida, e che ha partorito, mentre andavano via, durante il viaggio, ha partorito sulla nuda pietra e quindi dovrà abbandonare, anzi ha già abbandonato, i capretti destinati ad una morte certa, perché non essendoci la mamma che li ha latta, questi capretti moriranno. Notate appunto il verbo reliquid, ha, ahimè, per esclamazione di dolore, silice in nuda, con l'anastrofe dello stato e luogo, in silice nuda, e poi, ecco, l'espressione antifrastica, spam gregis, perché antifrastica? Perché, allora, se questi capretti fossero nati, diciamo, in una condizione normale, nella stalla, sicuramente sarebbero stati una speranza del gregge, no? Perché significava che il gregge sarebbe cresciuto, invece, nati in questa condizione, non sono più simbolo di speranza, ma sono simbolo di disperazione, perché appunto Melibeo sa benissimo che questi capretti, ripeto, moriranno, non avendo l'accurimento e il nutrimento della mamma. Quindi, ecco, questa disperazione, naturalmente, è la disperazione di Melibeo. Infatti, Melibeo parla di Malum Oc, di questa sventura, che era stata predetta dalle querce, perché noi sappiamo che quando un fulmine colpiva un albero, lo spaccava, secondo, lo spezzava, secondo i latini, era un cattivo presagio. E qui abbiamo Memini, che è il verbo reggente, e Tactus Quercus, che è, anche questo, un iperbato, le querce colpite dal fulmine. E poi notiamo anche il non, che più che negare il verbo, nega l'aggettivo leva. Se la mente fosse stata, non sciocca. Invece, purtroppo, Melibeo non si era reso conto, nei momenti di pace, che, appunto, il fulmine che colpiva le querce, stava predicendo, quindi stava arrivando, questo male, questa sventura. Però, ecco, ora vuol sapere, chi sia questo Dio? Notate il qui, tra l'altro, l'espressione è in anastro, perché dovrebbe essere, qui sit, ist, Deus, quindi, con un'inversione, invece di, ist, Deus, qui sit, qui sit, ist, Deus, il qui è un aggettivo interrogativo, perché più che sapere chi sia, e probabilmente, Titiro lo sa, ma Melibeo lo immagina, vuole sapere che tipo è questo Dio, quindi, più che chiedere l'identità, vuole sapere un po' le caratteristiche di questo Dio, le qualità di questo Dio, va bene, e le chiede a Titiro. un'altra cosa, il da, non è, l'imperativo del verbo dare, ma è l'imperativo del verbo dire, quindi sta per dic, dicci, dic nobis, va bene, di a noi, chi sia, che tipo, che tipo sia, questo Dio, e infatti, dal, verso 19 in poi, Titiro racconterà, che aveva fatto un viaggio per riscattare la sua schiavitù, aveva fatto un viaggio a Roma e qui aveva conosciuto il Deus. Ma bene, comunque, per il momento abbiamo finito.